il palo salva la squadra del Chievo Verona colpo di testa perfetto di Toni ma chi ha sbagliato l'Arrondo il cross di Pasquale verso Toni e poi l'Arrondo Marsello l'Arrondo il vantaggio della Fiorentina al 33esimo occhio perché è fuori gioco è fuori gioco è chiaramente fuori gioco di Toni